Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Oggi 20 giugno 2020 è il solstizio d'estate, l'inizio dell'estate e per tanti anche l'inizio della stagione balneare. Sulle spiagge libere da Torrione a Mercatello tanti bagnanti ma senza affollamenti. Accessi agli stabilimenti balneari in modo ordinato per tutti una gran voglia di relax. Noi questa mattina abbiamo fatto un giro per la città per verificare la situazione sia sulle spiagge libere che sugli stabilimenti balneari. Sentite cosa hanno dichiarato i bagnanti. 20 giugno 2020. Oggi con il giorno più lungo dell'anno è il solstizio d'estate, l'inizio dell'estate astronomica e con il sole pieno di stamani in tanti hanno dato il via anche alla stagione balneare. Tutti al mare in modo regolamentato. Sulle spiagge libere da Torrione a Mercatello situazione regolare nel rispetto delle norme e dei regolamenti in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid senza affollamenti. Bagnanti in autogestione sulle spiagge libere della città di Salerno. Accesso allo stabilimento invece è in modo più ordinato, più regolamentato sugli astabilamenti balneari dove tutto è contrassegnato. Ombrelloni e lettini sono già posizionati nel rispetto delle misure del distanziamento sociale. Un'estate diversa da tutte. Qualcuno arriva in spiaggia con la mascherina, ma in linea di massima tutti hanno impresso sul volto una sensazione di benessere e una gran voglia di godersi una giornata al mare, lasciando correre lontano i pensieri e le preoccupazioni che hanno accompagnato il lockdown del coronavirus. Primo giorno di mare oggi? No, già da diversi giorni. Già sono tre o quattro giorni che vengo al mare. Che sensazione ha provato rispetto allo scorso anno? È una sensazione un po' diversa. Lo scorso anno era un po' più libero, adesso dobbiamo un po' contenerci nel fare i tuffi, nel parlare con la gente, stare un po' di distanziamento ancora. Però io credo che ce la facciamo. Gli altri bagnanti come si stanno comportando? Lei che impressione ha avuto? Io credo che si stanno comportando bene, veramente bene. Siamo tutti nelle regole, tutti tranquilli, tutti beati, tenendo presente che c'è ancora questa malattia in giro, diciamo così. Sì, finalmente, perché non si può, con caldo non si respira. Poi per i bambini è importante vivere un pochettino. Ecco! Ha avuto un po' di timore prima di avvicinarsi alla spiaggia? Timore no, perché lei devo dire, da noi per fortuna l'emergenza si è sentita poco rispetto alle altre parti d'Italia, per fortuna. Quindi c'era questa voglia finalmente di vivere all'aria aperta e appena abbiamo potuto abbiamo iniziato. Il lockdown ci ha messo a dura prova. Sì, ma non so se si può stare, non lo so però. L'importante è mantenere il distanziamento. Sì, infatti, sì, 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 sì. Assolutamente sì. Cosa ha provato ritrovandosi su un lido balneare e pensando all'estate dell'anno scorso? Non c'è stata molta differenza, devo dire. Sposti perché è ancora presto, siamo ancora ai primi di giugno, quindi la fine era metà giugno, fine giugno. Però in genere questa era più o meno la frequenza. Ha avuto un po' di resistenza per iniziare il mare, per iniziare a regarsi su uno stabilimento? Non ho avuto molta paura del coronavirus, devo dire la verità. E questo, devo essere sincero, credo che sia una cosa con cui bisogna stare attenti, però neanche farsi condizionare troppo, rispettare le norme che ci sono, però vivere serenamente, non è che possiamo farci condizionare al punto da avere paura di tutto. E beh, dopo il periodo del lockdown, insomma, era necessario un po' di relax qui al mare. Ha un po' di timore nel guardarsi intorno, capire se c'è effettivamente la distanza, se sei nella posizione giusta, quali condizionamenti sta vivendo? Diciamo che nel momento in cui ci troviamo nell'ambito familiare, insomma, la cosa è tranquilla. Poi, insomma, lo stiamo pian piano superando questo periodo di paura, ecco, diciamo così. Ritrova un clima più di tranquillità, poi, tutto sommato? Sì, direi di sì, anche in giro vedo che la gente, insomma, si sta rilassando un po' di più, non c'è più quell'ansia del distanziamento, della mascherina, insomma. Vedo la gente più serena rispetto a qualche tempo fa. È un piacere, almeno qui, voglio dire, siamo liberi da questo obbligo. Si è avuto tanto timore che quest'anno non si potesse andare a mare, che c'erano difficoltà, invece poi alla fine? Alla fine, voglio dire, fortunatamente si sta dimostrando una normale influenza, quindi speriamo che, voglio dire, molti si capacitino di questo, ecco, più che altro, e siano più fiduciosi nell'avvenire, del futuro. Quali cambiamenti ha adottato nei suoi comportamenti rispetto all'anno passato? Devo dire la verità, non dico nessuno, non voglio essere presuntuosa, però, certo, una accortenza più che altro per i bambini, però diciamo che la mia vita è la stessa dell'anno scorso per quanto riguarda l'estate, ecco. Hanno dato persone in spiaggia, anche con la mascherina? A dire il vero, soltanto i ragazzi del bar, però no, non abbiamo avuto, non ho visto di queste situazioni. Sicuramente, da lunedì penso che il governatore ci aiuta in questo, anche perché anche al mare è complicato, insomma, borse, valigie, la mascherina si deve togliere. Oggi primo giorno in spiaggia? Oggi primo giorno in spiaggia, sì, finalmente è un po' di caldo, anche il tempo ci assiste, quindi speriamo bene che a settembre si annulli questo coronavirus. Che emozione, cosa ha provato varcando la soglia di questo stabilimento balneare? È un'emozione bella perché ho fatto la mia giovinezza qui, quindi è sempre una bella esperienza, poi è un bel lido e si sta bene. Ha avuto timore che quest'anno davvero ci potessero essere difficoltà per andare a mare? No, 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 questo no, nel senso che sicuramente limitazioni, distanziamenti, ma il mare, la libertà è di tutti. E ci sono buone notizie anche per il mare della costiera perché dopo il divieto di balneazione conseguente alle analisi del 26 maggio scorso relative alle acque del tratto della costiera interessato, Cetara ottiene la riammissione alla balneabilità e dunque si prepara ad accogliere turisti sulle spiagge in tutta sicurezza. Sentiamo. Dopo il divieto di balneazione conseguente alle analisi del 26 maggio scorso relative alle acque del tratto di costo interessato, Cetara ottiene la riammissione alla balneabilità e dunque si prepara ad accogliere avventori e turisti sulle spiagge in tutta sicurezza. L'Alpac ha completato i controlli cosiddetti presagionali sulla qualità delle 328 acque di balneazione in questo diviso sul litorale campano e secondo i prelievi effettuati il 17 giugno scorso le acque della costiera amalfitana presentano una balneabilità pressoché eccellente. Il mare rappresenta la nostra attrazione turistica primaria è in dubbio che il risultato ottenuto ci ridona aggiovamento soprattutto dopo la chiusura forzata per la Framana prima e il lockdown per l'emergenza sanitaria poi. Chi raggiunge Cetara troverà acque pulite potrà godere di un bagno salubre nel massimo dell'accoglienza commenta Fortunato della Monica primo cittadino di Cetara la situazione la balneabilità in campagna rispecchia al momento con poche variazioni quanto indicato dalla deliberazione di giunta regionale del 30 dicembre 2019 in cui sono elencate le aree di qualità scarsa e dunque da interdire la balneazione senza la normativa vigente in questo provvedimento la costa contraddistinta ad acque di qualità scarsa rappresenta circa il 3% del totale della costa monitorata dall'agenzia spiega Emma Lionetti referente ARPAC per le acque di balneazione ed un'altra buona notizia che riguarda sempre la Divina è che c'è lo stop alle targhe alterne in costiera amalfitana i sindaci della Divina hanno trovato l'intesa per sospendere l'efficacia dell'ordinanza dell'ANAS che sarebbe entrata in vigore già questo fine settimana sentiamo buone notizie sul fronte viabilità in costa da Amalfi per venire incontro alle richieste di albergatori ristoratori e balneatori che a causa del covid-19 hanno subito una drastica riduzione di presenze turistiche e tenendo conto della diminuzione del traffico veicolare è stato raggiunto l'accordo per sospendere l'efficacia dell'ordinanza 337 del 2019 dell'ANAS che regola il traffico sulla strada statale 163 amalfitana nel punto in cui era previsto a partire da domani il transito a talghe alterne di tutti gli autoveicoli l'intesa è stata ratificata nella serata di ieri al termine della riunione della conferenza dei sindaci guidata dal presidente facente funzioni Luigi Manzi e alla quale hanno partecipato in videoconferenza la maggior parte dei primi cittadini della costa da Amalfi sarà predisposto a un'ordinanza specifica che dovrebbe entrare in vigore a stretto giro sicuramente è una decisione saggia e lungimirante rispetto alla condizione economica generata dal covid-19 in una costiera ancora deserta dove i traffici internazionali non sono ancora partiti dove ci sono numerose aziende ancora chiuse con dipendenti e saggionali a casa ed una condizione economica molto seria quindi la decisione di togliere le targhe alterne è stata una decisione importante e rilevante e io mi auspico che nelle prossime ore siano anche tolti parecchie restrizioni a quella ordinanza soprattutto quella riguardo i pullman che devono raggiungere gli alberghi con prenotazione in costiera amalfitana che naturalmente sono impediti ad uscire a pietri sul mare e quindi devono percorrere ore e ore di traffico da Sorrento o da via Nuova Chiunzi quindi è importante una nuova decisione della conferenza dei sindaci che deve recepire sia il prefetto che l'ANAS a togliere completamente queste rettrizioni per l'anno 2020 per poi lavorare da subito ad una condizione diversa di ZTL di controllo alle quattro porte della costiera per l'anno 2021 c'è impegnato l'ACAMIR la regione campania che ha messo oltre credo 200-300 mila euro per questa progettazione e si è impegnata anche a finanziare quello che è l'attuazione pratica di uno ZTL di controllo per selezionare il traffico in costiera amalfitata e registriamo una nota di Federalberghi sul caso di un turista lombardo si legge una notizia nessun turista lombardo è stato rifiutato il soggiorno accogliamo con tutti con grande entusiasmo così nella nota a firma di Emanuel Ruocco referente di zona e di Giuseppe Gagliano presidente di Federalberghi Salerno in pratica è stato fatto un post sui social che ha dato vita poi ad un articolo che sarebbe stato strumentalizzato dove si riportava del fatto che un turista lombardo non era stato accettato nella zona la cosa che ci allieta è che tutte le regioni del nord Italia stanno preferendo Agropoli ed il Cilento per la loro vacanza scegliendo non solo il mare cilentano che ricordiamo scrivono i due firmatari essere tra i più premiati d'Italia ma optando anche per scelte che vanno a dare valore all'offerta dei tanti siti turistici del Parco Nazionale del Cilento da quelli UNESCO a quelli naturalistici predileggendo i trekking i cammini i relax in collina piuttosto che una giornata al rifugio del Monte Cervati tanti italiani stanno scegliendo dunque questa zona e non vi è dubbio che il Cilento potrà essere il luogo ideale per chi voglia godersi una meritata vacanza e concedersi il giusto relax dopo mesi trascorsi in casa noi diamo il benvenuto quindi smentiscono categoricamente la notizia che un turista lombardo sia stato allontanato dal Cilento proprio così come scrivono Emanuele Ruocco referente di zona e Giuseppe Gagliano referente di presidente di Federalberghi Salerno ed ora invece parliamo di cronaca perché c'è stato un blitz a Cava dei Tirreni allo stadio Simonetta Lamberti i carabinieri hanno trovato quattro perai in nero e sono state riscontrate violazioni delle norme di sicurezza in materia di lavoro sentiamo i dettagli in questo servizio quattro perai in nero e violazioni delle norme di sicurezza in materia di lavoro è quanto emerso dal blitz eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni diretti dal tenente Vincenzo Pessolano allo stadio Simonetta Lamberti dove sono in corso i lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di Corso Mazzini alle prescrizioni della FIGC i militari dell'arma sono stati impegnati in una serie di accertamenti sulle quattro ditte che stanno eseguendo i lavori di cui due in subappalto una delle imprese ha avuto una sanzione di circa 20.000 euro poiché i quattro perai sono risultati in nero la documentazione è stata trasmessa all'ispettorato del lavoro nonostante le infrazioni rilevate che a quanto pare sono state già regolarizzate i lavori proseguiranno normalmente come da calendario in questi giorni infatti è in corso il montaggio delle nuove torri faro che salvo complicazioni saranno issate il 24 ed il 25 giugno a fare il punto della situazione sul lavoro in corso allo stadio Lamberti il dirigente del settore lavori pubblici del comune di Cava dei Tirreni Antonino Attanasio l'innalzamento delle torri in un'operazione laboriosa sarà chiuso corso mazzini sono cose importanti ancora da fare quindi non cambiamo vittoria aspettiamo che appunto tutto sia fatto e tutto sia completo perché ci saranno ancora mille cose da fare e io voglio essere assolutamente certo di poter rispettare i tempi che abbiamo dato noi crediamo che per il 30 accendiamo anche le luci se non sarà il 30 sarà appena qualche giorno dopo però ce la stiamo mettendo ma non merito i particolari se non quello di come dire di chiamare all'ordine alle scadenze le cose non posso fare altro però è stata veramente una cosa complessa considerate che il cartiere delle torri è partito a febbraio e c'è stato un blocco di due mesi e mezzo dell'Italia ciò non di meno siamo riusciti comunque perché se non ci fosse stata questa cosa oggi avremmo già finito quindi quando dicevamo che avremmo fatto per maggio era veramente possibile però ripeto aspettiamo che tutto sia finito che per ora quello che è stato fatto sembra bene bello anche a vedersi il corpo d'occhio della tribuna è bello e credo che da noi lì cominceranno a montare anche i sediolini nei distinti vogliamo cercare di assecondare qualche tutta sul colore della scala d'emergenza nei distinti che non vogliono che sia giallo faremo un altro colore però vogliamo andare speditamente avanti se c'è qualche piccola cosa che poi dobbiamo ritoccare avremo il tempo per farlo l'importante è che adesso finiamo le opere strutturali finiamo le opere impiantistiche acquisiamo tutte le certificazioni e convochiamo la commissione per avere i pareri perché anche lo stadio tornerà a tutta la sua capienza possibile quindi saranno disponibili tutti i settori degli istinti tutto il settore della curva e tutta la tribuna che lo era già quindi la capienza dovrebbe arrivare quasi a 5 mila spettatori questo pure è un fatto importante anche per la società che investe tanto nella squadra e che può avere un ritorno economico ed ancora cronaca ritorniamo nella città di Salerno perché la polizia ha scoperto un'attività di spaccio in un'abitazione nella frazione collinare di Cappelle arrestando un sessantenne sono stati gli agenti della squadra mobile della sezione criminalità diffusa a individuare l'abitazione dove si era registrato un sospetto via vai di persone dopo pazienti appostamenti hanno fatto irruzione nell'appartamento di quest'uomo di 60 anni di Salernitano con innumerevoli precedenti di polizia DGA queste le iniziali hanno effettuato una perquisizione domiciliare e personale ritrovando e sequestrando diverso stupefacente di tipo cocaina oltre 8 grammi crack e 36 dosi termosaldate e già confezionate pronte per la vendita per complessivi 9 grammi di cocaina nonché numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi un bilancino di precisione durante la perquisizione è stata trovata anche una pistola di marca Mauser perfettamente funzionante calibro 7,65 completa di caricature e fondina 24 29 cartucce dello stesso calibro tutto illecitamente detenuto e sottoposto a sequestro per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere di Forni la disdetta del contratto di lavoro la flessibilità in entrata e in uscita nel mondo del lavoro con i voucher l'accesso al credito la riforma della legge Bersani e la proroga della cassa integrazione in deroga almeno fino al prossimo 31 dicembre sono alcune delle richieste fatte dagli imprenditori della ristorazione avanzate alle associazioni e federazioni del settore sentiamo attendono azioni concrete da cui poter trarre una speranza per sopravvivere ad un evento come quello legato al coronavirus che ormai è certo farà più danni di una guerra e quanto si evince dalla lettera inviata dai movimenti associazioni e imprenditori dell'Oreca indirizzata al presidente Fipe Confcommercio Enrico Stoppani al presidente Fiepet Confesercenti Giancarlo Banchieri nella quale i ristoratori mostrano la loro amarezza per l'immobilismo delle federazioni è tempo di mostrare responsabilità nei confronti di molti imprenditori e delle imprese ha dichiarato ai nostri microfoni il segretario dell'Associazione Commercianti per Salerno Armando Pistolese delle osterie dei bar trattorie ristoranti pizzerie pasticcerie pub che a volte sembrano esteticamente brutti e vecchi ma nei quali ogni anno sbocciano passioni nuove attività che tengono vive tradizioni di intere comunità e che sono il tessuto sociale e economico del territorio gli imprenditori chiedono con forza interventi strutturali che possano far sopravvivere le imprese ad esempio la disdetta del contratto di lavoro la flessibilità in entrata e in uscita dal mondo del lavoro i voucher l'accesso al credito la riforma della legge Bersani e la proroga della cassa integrazione in deroga almeno fino al prossimo 31 dicembre noi come ACS in particolare e come ristoratori italiani perché noi confluiamo in un gruppo di ristoratori italiani abbiamo scritto questa lettera appello ai presidenti delle grosse associazioni di categoria per chiedere aiuti concreti perché sostanzialmente i presidenti delle grosse associazioni non è che abbiano fatto molto per noi noi nel nostro movimento confluiscono personaggi di rilievo come Lucio Pompili Alfredo Zini e Pasquale Naccari che è stato più volte a parlare con il ministro Patuanelli e probabilmente è l'unico che è riuscito ad ottenere qualcosa delle nostre richieste come potrebbe essere il prolungamento ovviamente della cassa integrazione fino a dicembre la reistituzione dei voucher che il governo non vuole assolutamente per noi sarebbe una manna dal cielo la riforma della legge Bersani perché sì la legge Bersani la concorrenza fa bene a tutti però almeno delle noi parlavamo per esempio anche noi della CS di competenze specifiche di una persona per avere un tipo di attività determinata ovviamente ogni uso diventa un abuso i voucher sono stati abusati da chi li ha utilizzati male però io ritengo che per noi che ovviamente abbiamo un picco di lavoro il sabato il venerdì o anche la domenica a pranzo sarebbe una manna dal cielo ripeto quindi il voucher potrebbe essere una salvezza per noi che non possiamo in questo momento impegnarci a fare altri contratti dipendenti semmai per un giorno diventa difficoltoso che bilancia traccia la CS dopo un mese insomma di ripresa dalle attività tra asporto non asporto domicilio fino all'apertura totale guardi io ho vissuto tutte le fasi perché con la mia attività ero abilitato anche alla vendita c'è stato un graduale una graduale ripresa che piano piano si sta vedendo però è lenta e la gente comunque ha ancora paura noi cerchiamo di dargli figurezza e rispettare tutte le regole purtroppo ovviamente non tutti lo fanno ma chi non le rispettava prima io l'ho già detto altre volte non le rispetta neanche adesso i problemi della città ovviamente ci sono e vanno risolti però diciamo che pian piano la gente ha voglia di uscire diamogli le condizioni per uscire e date anche le condizioni a noi per lavorare bene questo chiediamo per questo noi poi ci riuniremo con la nostra assemblea ordinaria la settimana prossima come ACS per fare un punto della situazione non mancherà anche un tavolo nazionale sicuramente se non la prossima settimana fra due settimane ci incontreremo probabilmente a Roma con tutti i ristoratori abbiamo associazioni da tutta Italia Liguria Sicilia Marche Lombardia i Toscani e ci incontreremo tutti per probabilmente fare un movimento nazionale ed oggi e domani parte ad Agropoli il primo test della pedonalizzazione serale del lungomare di San Marco si tratta di una scelta operata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola sentiamo parte nel weekend il primo test della pedonalizzazione serale del lungomare San Marco ad Agropoli si tratta di una scelta operata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola che nelle scorse settimane si è confrontato anche con gli esercenti presenti sul tratto che verrà interessato dalla chiusura al traffico veicolare ovvero quello compreso tra via Pasquale Voso e via della Lanterna si tratta di una prova che viene effettuata in un momento ancora tranquillo della stagione turistica per poter avere tutto il tempo di apporre eventuali modifiche o correzioni in funzione della chiusura attiva dalle ore 20 alle 2 l'area servizi di vigilanza polizia locale e protezione civile ha emesso apposita ordinanza a firma del comandante della polizia municipale il maggiore Carmine Di Biasi l'uscita consigliata per tutti i veicoli è lo svincolo Agropoli Sud da dove sono facilmente raggiungibili i diversi parcheggi dislocati sul territorio comunale l'ex campo sportivo Landolfi via Le Lazio via Romanelli piazza Mediterraneo via Largo Caruccio lo spazio adiacente l'impianto sportivo Guariglia e l'area mercatale a ridosso dell'area pedonale sono disponibili parcheggi di piazza Gallo via Bolivar via San Felice e della scuola elementare via Silvi sarà tassativamente vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli fino al 21 giugno il transito sarà comunque consentito ai residenti e ai mezzi di soccorso è tutto in fase di ripresa oggi con il sostizio d'estate si attivano tutta una serie di attività legate non solo al mare ma da un'estate da vivere all'aria aperta e così l'amministrazione comunale di Baronissi mette gratuitamente a disposizione l'anfiteatro Pino Daniele per tutti gli operatori culturali cinema, musica, lirica, danza teatro laboratori multimedialità dal prossimo 4 luglio e fino al 27 settembre la giunta comunale di Baronissi ha infatti deciso di aprire ed offrire gli spazi dell'anfiteatro comunale per dare un sostegno concreto a tutti gli operatori culturali alle prese con la grave emergenza covid le richieste dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC del protocollo del comune di Baronissi entro e non oltre mezzogiorno del prossimo 30 giugno eventuali domande pervenute oltre tra le data saranno valutate solo in caso di disponibilità della struttura i soggetti richiedenti dovranno specificare nel dettaglio il programma che intendono presentare e indicare il periodo nel quale hanno intenzione di svolgere l'evento sarà a carico degli organizzatori poi il rispetto delle misure anti covid e in particolare il controllo sul numero degli spettatori che possono accedere all'anfiteatro la sanificazione al termine degli spettacoli e l'assunzione della responsabilità civile verso terzi nell'ipotesi che gli operatori culturali richiedano l'anfiteatro nella stessa data si terrà conto dell'ordine di presentazione delle richieste la concessione gratuita dell'anfiteatro da parte dell'amministrazione retta dal sindaco Gianfranco Valiante non esonera ai richiedenti dalla presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente ai competenti uffici comunali e dal pagamento dei diritti d'autore se dovuti e parleremo di sport oggi giornata di calcio importante per la salernitana ma lo facciamo subito dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore a tra poco per te che sei sempre attenta a ciò che parte in tavola Todis la spesa di qualità a prezzi convenienti con i suoi reparti freschi Todis garanzia di bontà e genuinità macelleria salumeria gastronomia ortofrutta è un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine senza lattosio vegani e vegetariani prezzi bassi tutto l'anno petto di polla fette 6 euro e 90 centesimi al chilo costatelle di suino 3 euro e 99 centesimi al chilo prosciutto di suino 3 euro e 99 centesimi al chilo spezzatino di suino 3 euro e 99 centesimi al chilo hamburger di pollo 80 grammi per due 1 euro e 20 centesimi al pezzo a salerno in via roberto volpe zona sante ustacchio a nocera inferiore via nicola bruni grimalti 37 nei pressi della stazione ferroviaria previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna schiarite alternate a nubi sparse nel pomeriggio sulle coste schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi previsioni del tempo fornite da 3b meteo e siamo alla pagina dello sport ci occupiamo di calcio oggi è il giorno dei granata si attende ovviamente il regalo di compleanno per il centunesimo compleanno della salernitana di sua maestà e di intanto da lunedì in campania decadrà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e allo stesso tempo Ventura ha suonato la carica alla vigilia della sfida per lui da ex al Pisa avversario arcigno e tosto che vuole mantenere le distanze dalla zona rossa della classifica sentiamo da lunedì in campagna decadrà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto ma il governatore De Luca ci tiene a precisare che è doveroso portarla sempre con sé sia per indossarla nei luoghi chiusi sia per poter coprire bocca e naso anche all'aperto laddove ci sia troppa gente la mascherina è stata nostra compagna di viaggio negli ultimi tre mesi non sappiamo se in che misura ci abbia protetti visto che tanti esperti sull'argomento si sono divisi in pro e contro ma alzi la mano a chi non è mai uscito di casa senza averla dimenticata ed ha fatto dietro a front per recuperarla e non rischiare sanzioni ma anche semplici occhiatacce da parte degli altri pedoni senza ipocrisia va detto che per molti forse per tutti da qualche tempo la mascherina è diventata un accessorio di difficile sopportazione per il caldo che si fa sentire per la voglia di libertà e per il desiderio di lasciarsi alle spalle un periodo da incubo di sicuro ora è il momento di gettare la maschera per la saleritana ultra centenaria per la data di fondazione ma dalla carta di identità più verde che mai per quanto riguarda l'età media del gruppo con cui Giampiero Ventura vuol dare l'assalto ai playoff e non solo il tecnico genovese del 48 anno in cui la saleritana militava in serie A persa come nel 99 di misura e non per esclusivi dei meriti propri con la sua esperienza ma anche con il suo entusiasmo Ventura ha suonato la carica alla vigilia della sfida per lui da ex al Pisa avversario arcignettosto che vuole mantenere le distanze dalla zona rossa della classifica giocare alle 18 sotto un suolo che si annuncia ancora alto e caldo non sarà facile lo si è già visto ieri in occasione dell'anticipo che ha consegnato allo Spezia una vittoria pesantissima sull'Empoli un risultato importante in ottica playoff anche per la saleritana che sa che la non classifica l'Empoli appunto è rimasta a quota 40 e vede la possibilità di allungare per farlo dovrà raccogliere tutte le risorse fisiche e mentali fare appello alle motivazioni alla voglia più che alla tattica sperando che l'eco dei festeggiamenti per il recente compleanno del club sia aggiunta alle orecchie del gruppo e possa dare una spinta in più per superare l'insidere la ripartenza e l'ostacolo Pisa finalmente si riparte dopo mesi di incertezze e paure per regalarsi un'estate da sogno bisognerà gettare la maschera e tira fuori quel coraggio che oggi sarà stampato a caratteri cubitali sulle maglie dei calciatori Granata e l'ex calciatore dell'Avellino e dell'Inter Georges Juari in questi giorni a Salerno dove vive con la figlia in occasione del suo viaggio in Italia e per promuovere la Santos Academy l'ex attaccante brasiliano questa mattina è stato nostro ospite e ci ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del passato ma anche del presente riservando parole al miele per Giampiero Ventura ascoltiamolo questo signore sicuramente lo ricorderanno gli appassionati di calcio adesso una maia del Santos non c'è una bandierina intorno a cui correre dopo un gol però Juari insomma come mai a Salerno non prima è un piacere stare qui con voi come mai a Salerno sono questi le nipote a Salerno Gabriele Pina Antonio Diero la mia figlia gli amici ogni tanto bisogna venire a trovare sono venuto a stare un po' con loro che la prossima settimana o compriano loro allora da parecchio che non lo vedeva sono contento veramente perché non aspettavo neanche di trovare a Salerno tanta gente così che mi vuole bene noi adesso lavoriamo non per Santos Futebol Clube proprio Santos noi abbiamo acquistato delle franquia del Santos per montare un'academy non solo Italia come Italia Portugal e Francia abbiamo questo obriggio di montare di coordenare tutto questo poi vediamo adesso abbiamo Milano dobbiamo già inaugurare a Milano se le cose va bene all'inizio di luglio primo o due di luglio inauguriamo la prima poi andiamo a desanno di Garda facciamo la seconda e poi vediamo dove andiamo a Salerno ci sarà spazio per qualcosa del genere io credo che in tutto il posto c'è spazio bisogna avere un po' di interesse anche della gente perché l'obiettivo dell'academy Santos Futebol Clube non è solo fare calciatore è anche crescere un uomo perché il calciatore prima o poi deve smettere e l'uomo deve seguire ancora vediamo se c'è la possibilità di sentare di parlare con gusto lo faremo a Salerno oggi intanto riparte l'avventura della Salerno in Serie B ieri c'è stato l'anticipo tra Spezia ed Empoli in generale questi 3-4 mesi senza calcio come li ha vissuti Juari è giusto è stato giusto riprendere oppure bisognava aspettare ancora perché il calcio senza pubblico non è calcio non è una cosa perché la cosa più bella del calcio è la pubblico andare a giocare contro nella squadra e vedere che tifosi avversario che ti può rompere un po' la scatola io credo che magari se si aspettasse ancora un po' si poteva partire in una situazione diversa quali si ricorda di più belli di Juari in Italia come calciatore ricorda di più belli come calciatore fosse no stato periodo di Avelino veramente è stato grandissimo la prima salvenza che se abbiamo che da salvasse abbiamo partito con 5 punti a 2 punti poi abbiamo trovato un terremoto strada facciana che ci ha veramente ci ha colpito tanto ma fosse il più bello ricordo che ci ha veramente di tutto questo è la nascita di mia figlia a Cava di Tireni perché non mai aspettava queste cose qua capito e quando è nata lei 38 anni fa è stato fosse il gol più importante della mia vita anche più quello della Coppa dei Campioni contro il Bayern quello è stato già una è un'escazione è stato un periodo in cui quando siamo andati al Porto veniva di due anni più o meno un anno difficile a Inter di Milano poi siamo riusciti a fare bene da Ascoli a Cremona ma la gente aveva in mente il gioare da Avelino quello che ha fatto da Avelino poi quando siamo andati al Porto abbiamo trovato una possibilità di risgatarti e al Porto ringrazio Avelino perché veramente Avelino mi ha aberto le porte poi al Porto abbiamo vinto sono riuscito a vincere quello che non ho mai pensato in vita mia è che riuscite a vincere abbiamo vinto la Champions abbiamo vinto la Supercoppa Europea abbiamo vinto il Mundial l'Interclub quindi credo che il Porto sia stato una delle società un periodo più bello della mia vita Giori come allenatore in Italia ha vinto in Liguria in un campionato nel Sessi Levante a Salerno c'è un allenatore Ligure ecco secondo lei Ventura a Salerno può vincere? Sì può vincere è bravo l'ho visto Ventura accompagnato un po' in Brasile il suo lavoro anche con Dari Nazionale credo che Ventura può fare un po' di fortuna perché nel calcio non c'è un po' di fortuna è difficile per noi allenatori è complicato perché se riusciamo a perdere tre partite di fila la gente se ricorda quello che abbiamo pensato non è quello che abbiamo vinto o troppo è questa realtà quindi è un posto inseguro praticamente allenatore è l'unico che è sempre da solo quando vince e quando perde è sempre da solo perché se vince le merite dei calciatori se perde è la culpa del allenatore quindi credo che Ventura si può fare non sappiamo tutti noi che Salerno è una piaccia difficile è una piaccia complicata dove la gente è habituata a un gran calcio sempre a 20 e io mi auguro che Ventura che fa fare un buon lavoro e porta la Salernitana dove le merite andare e io dico sempre se fosse a giogare calcio adesso non ci va a giogare con questa estatura qui la gente non mi achava andare non ci va a giogare 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 e una cosa che vedo in giro per Don Viovado incluso lavorato tre anni nel settore juvenile e dos santos stiamo a transcurare una cosa troppo importante per i giovani che è una parte tecnica stiamo a preoccupare a fare con che loro impare subito la tattica e di me diciamo che loro devono divertire prima se loro riesco non divertire durante la settimana sicuramente la domenica lo fanno bene e con questo lungo e intenso racconto di Juari si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per averci scelto per ulteriori aggiornamenti vi rimando come sempre alla nostra pagina istituzionale alla nostra pagina Facebook buon proseguimento arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.